per un minuto di storia con mario oggi parliamo di san francesco d'assisi perché perché per tradizione san francesco sarebbe nato il 26 settembre del 1181 non abbiamo certezza anagrafica non c'era l'anagrafe al tempo ma questa è la data di nascita san francesco lo conoscete tutti è il frano d'italia è il fondatore dell'ordine dei francescani è colui che ha cambiato la storia della chiesa nel dodicesimo secolo quando morì una delle particolarità forse che pochi conoscono quando morì nel 1226 la pratica di canonizzazione fu così rapida che divenne santo neanche due anni dopo la morte nel 1228 e diventò poi patrono d'italia e dire il nome all'attuale papa della chiesa cattolica